Il capitolo 1095 ci catapulta nel passato del mondo di One Piece. Assistiamo ad un pezzo di storia che da tempo siamo curiosi di conoscere. E così, all'improvviso, ci ritroviamo su God Valley. Vediamo un po' cosa scopriamo. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. L'inizio del capitolo è terrificante, mette ansia. Abbiamo i marine che hanno paura di Saturn. Loro sono quelli di rango più basso, quelli che non possono guardare l'astro di saggezza. Non ne hanno il permesso e nemmeno il diritto. Se lo fanno, la loro testa esplode. È incredibile il fatto che Saturn è intervenuto di persona nonostante la presenza di un ammiraglio. E questo stupisce i marine. Loro non lo sanno, ma noi possiamo intuire il motivo per cui si è mosso. C'è troppo in ballo. C'è Rufy con i poteri di Nika e Vegapunk che cerca di scappare. Viene definito come un personaggio con il più alto rango tra gli dèi. Ma questo personaggio non appare come un dio. Piuttosto si presenta come un demone. Come un personaggio infernale. Oltretutto vediamo anche che questo personaggio riferisse agli altri come gli esseri umani. Come voi esseri umani. E questo ci sembra, ci fa capire come se Saturn si ritenesse qualcos'altro. Qualcosa di una natura diversa da quella degli esseri umani. Come immaginavamo, Saturn non aveva alcun interesse a schivare il colpo di Bonnie. E questo perché l'attacco della ragazza non può fargli nulla. Come possiamo vedere smette di sanguinare all'istante. Questa scena serve a convincerci ancora di più che Saturn possiede un potere ambiguo. E' come se le sue ferite non avessero effetto. Come se guarissero da sole. Come se non potesse morire. All'interno del flashback del capitolo lo vediamo nel passato con lo stesso aspetto identico del presente. E' un personaggio che non invecchia, non cambia nell'aspetto, ma allo stesso tempo non subisce ferite. Qual è il suo segreto? Possiede la vita eterna, l'immortalità, entrambe le cose? In cosa consiste il suo potere con cui riesce a immobilizzare tutti? Come dice Vegapunk, potrebbe trattarsi del potere di un frutto del diavolo. Perché lui essendo uno scienziato deve per forza riuscire a comprendere la natura di quel potere. E come dicevamo nello scorso video però, non siamo sicuri che Saturn abbia ingerito un frutto del diavolo. Non ci viene presentato come un utilizzatore di un frutto. I suoi poteri potrebbero essere suoi di natura. E questo accrescerebbe ancora di più la natura demoniaca del personaggio. La natura diversa da quella umana. Aggiungendo ancora più mistero anche alle vere origini dei frutti del diavolo. Saturn rappresenta l'inferno, un qualcosa di oscuro. Mentre dall'altra parte abbiamo Rufy, Nika, la luce. E ci troviamo di fronte a dei punti di vista contrastanti. Perché Saturn, governo mondiale, autorità, legge dovrebbe essere comunque l'esempio positivo. E mentre Rufy, il pirata dovrebbe essere visto come il nemico, l'esempio negativo. E invece no, c'è un ribaltamento. Quelli che si definiscono dei sembrano essere l'oscurità. Mentre quelli che vengono additati come criminali sembrano essere invece la vera luce. I veri elementi positivi. Per cui nel mondo di One Piece qualcosa non funziona. Qualcosa deve essere cambiato. E come dice Barba Bianca, il mondo finirà sottosopra. Come abbiamo visto, una delle prime cose che tenta di fare Saturn è proprio quella di eliminare Rufy. Fortunatamente Frankie lo salva. Ci chiediamo se già in quel momento tutti i membri della ciurma fossero immobilizzati. O se Saturn li blocca dopo come conseguenza del salvataggio da parte di Frankie. Ce lo chiediamo anche perché Frankie sembra già bloccato. Piantato a terra. Riesce a muoversi e a salvare Rufy grazie al suo pugno che si smonta. E quindi grazie alle sue caratteristiche da cyborg. Se sono stati bloccati dopo invece, significa che Saturn li abbia immobilizzati per evitare che qualcuno si intromettesse nuovamente. Che i suoi poteri derivino da un frutto del diavolo o che siano una caratteristica distintiva di questo personaggio, questo non lo sappiamo. Sappiamo solo che tutti non riescono a muoversi, come se qualcosa li bloccasse. Come abbiamo detto nel video precedente, la creatura di cui Saturn prende le sembianze è uno yokai. È uno yokai giapponese. Lushioni è una delle caratteristiche di questa figura del folklore giapponese. è appunto quella che si manifesta con delle sembianze da ragno. Un'ipotesi è quella secondo la quale l'astro di saggezza abbia bloccato tutti con delle ragnatele invisibili. Può essere davvero così? Ma questo capitolo ci presenta una nuova razza. La razza dei baccania, secondo il termine giapponese. O la razza dei bucanieri, secondo la traduzione inglese. Per il momento li chiameremo noi bucanieri, in attesa di capire quale traduzione è meglio usare. Come scopriamo in questo capitolo, i bucanieri discendono dai giganti. Hanno sangue gigante. Attraverso un flashback di Orso, veniamo a conoscenza del fatto che la leggenda di Nika viene tramandata all'interno di questa famiglia. E questo è molto interessante. Soprattutto perché a Mari Joa vediamo un cappello di paglia gigante. L'arca Noah era gigante. Abbiamo sempre immaginato il primo Joy Boy, o il Nika originale, come un gigante. E quindi ci sta tutto il collegamento di Nika con la razza dei giganti. E questa nuova razza, questa razza dei bucanieri, è una sorta di razza che mette insieme gli umani con i giganti. I membri di questa razza sono molto potenti. E come dice Saturn, i componenti di questa famiglia si sono macchiati di crimini indicibili. Probabilmente perché la loro storia è collegata direttamente a Nika, e di conseguenza a quella del secolo vuoto, che il governo mondiale ha provveduto ad insabbiare. È rischioso essere quindi un membro di questa razza, portare il fardello del segreto di Nika. Il governo mondiale cattura i membri di questa famiglia, e li rende schiavi. Ne sfrutta la potenza. Proprio come avviene con la famiglia di Orso. A questo punto ci viene in mente un altro collegamento. Big Mom è stata portata a Airbuff. È stata portata dai giganti. Possibile che questo personaggio appartenga alla razza dei bucanieri? Magari il gene dei bucanieri non si trasmette sempre in ogni generazione. A volte forse salta anche qualche generazione. E a Big Mom potrebbe essere accaduto questo. Se fosse così si spiegherebbe la potenza di questo personaggio, e capiremmo perché è stata portata proprio a Airbuff, nella terra dei giganti. La sua vita sarebbe stata in pericolo se il governo mondiale si fosse accorto della sua natura. E quindi anziché essere stata abbandonata dalla sua famiglia, potrebbe essere stata portata lì per salvarla. E ciò cambierebbe anche un po' la visione del flashback di Big Mom. Questo spiegherebbe ancora meglio perché Oda ha da sempre collegato il passato di Big Mom ai giganti. Vediamo in questo capitolo il padre di Orso narrare la storia di Nika al figlio. Lo stesso fa poi il figlio, ovvero Orso Bartolomeu, con Monny. Proprio come ha raccontato Usu in passato. Chi raccontava gli altri schiavi di Nika veniva fatto sparire. Si tratta di una storia che il governo non vuole venga raccontata. E come possiamo vedere nella storia di Orso, anche suo padre viene eliminato dopo che racconta questa storia al figlio. Magari è solo una coincidenza, ma potrebbe essere stato eliminato di proposito per via del suo racconto. E se sei giunto fino a questo punto, iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Orso Bartolomeu cresce quindi con questa idea di Nika, con questa storia raccontata dal padre. Questo è un collegamento eccezionale anche perché è stato proprio Orso a salvare Rufi e i suoi compagni a Sabaudi. A questo punto ci chiediamo se questo personaggio non abbia già agito quella volta pensando al fatto che Rufi si sarebbe potuto rivelare Nika. Tre volte Rufi è stato salvato dai membri dell'armata rivoluzionaria. Tre volte in situazioni critiche. A Sabaudi da Orso, a Lockdown da Dragon e a Impeldown da Ivankov. Anche se in questo caso, a differenza dei salvataggi di Dragon e Orso, il salvataggio da parte di Ivankov è avvenuto in via del tutto casuale. Il salvataggio da parte di Dragon potrebbe essere stato dovuto al fatto che Rufi sia suo figlio. E se non fosse solo per questo? Magari anche quella volta Dragon ha agito pensando a questa possibilità. Pensando non solo al fatto di salvare suo figlio, ma pensando anche a Nika. Possiamo quindi pensare che Dragon sappia di Nika attraverso Orso. E che l'armata rivoluzionaria abbia pensato che attraverso Rufi e il frutto Gom Gom sarebbe potuto manifestarsi Nika. Il guerriero della liberazione, colui che capovolgerà il mondo intero. Nika potrebbe aver rappresentato, fino ad oggi, per i rivoluzionari, un'idea, una consapevolezza, una speranza di cambiamento per il mondo intero. Potremmo anche pensare che Orso Bartolomeu, mentre Rei li affrontava Kizaru, gli abbia detto anche questo. Noi sappiamo che quella volta Orso ha detto a Re Oscuro che avrebbe salvato Rufi e i suoi compagni. Ma non possiamo sapere se, oltre a questo, gli ha detto pure che lo avrebbe fatto perché Rufi sarebbe diventato poi Nika. Questa informazione potrebbe aver colto di sorpresa Rayleigh, che poi decide pure di allenare il ragazzo con il cappello di paglia. Questo presunto Joy Boy. Se fosse così possiamo anche ipotizzare che i pirati di Roger hanno sempre atteso questo Nika. E questo veramente lo sappiamo, perché lo possiamo confermare anche attraverso le parole di Barba Bianca a Marineford. Quella volta Newgate disse a Teach che non era lui l'uomo che Roger stava aspettando. Roger aspettava Joy Boy, aspettava Nika. E noi attraverso il flashback di Oden abbiamo scoperto che Roger aspettava il ritorno di Joy Boy. Si è messo a ridere conoscendo qualche aspetto di questa figura propria Rufftail. Possiamo quindi ipotizzare che Shanks sapesse sin dall'inizio che il frutto Gom Gom fosse in realtà un frutto molto speciale. Rimane quindi questo mistero. Ci chiediamo se Shanks sapesse che quello fosse il frutto di Nika. Se fosse così potrebbe esserci la possibilità che Shanks abbia riconosciuto il Rufi Joy Boy. E successivamente lo stesso potrebbe anche essere successo con Rayleigh. In questo modo sia i rivoluzionari che i pirati di Roger hanno sempre creduto nel ritorno di questo Nika. E sono tutti quei personaggi comunque legati in qualche modo alla God Valley. I rivoluzionari attraverso Orso, Ivan, Cobb e Dragon che è il figlio di Garp. E i pirati di Roger per via di Roger stesso e di Shanks. Tutte le azioni di Orso a Bartolomeo nei confronti di Emugiwara quindi oggi appaiono in modo diverso. Appaiono come pianificate affinché potessero favorire la ricomparsa e il ritorno quindi di Nika. Ci sono tanti elementi del puzzle che potrebbero essere ricomposti. E il risultato potrebbe darci un quadro sorprendente. Una nuova visione della storia di One Piece. Quello che è accaduto alla God Valley è uno sterminio. I draghi celesti cancellano gli abitanti di un'isola e poi rivendicano il territorio. Lo fanno proprio. Garling è identico a Shanks. La parentela tra i due è quasi confermata ormai. All'interno del volume 45 e precisamente nel capitolo 434 vediamo Shanks e Barbabianca incontrarsi. Barbabianca quando vede il rosso gli dice che solo a guardarlo gli viene in mente la ferita che gli è stata inflitta da qualcuno. A questo punto sembra proprio parlasse di Garling. Roger ha trovato Shanks in uno scrigno a God Valley. E Shanks è un figarland. Ci sono tutti i presupposti per rendere reale la teoria che lega Shanks e Garling come parenti. Quindi come padre e figlio. Manca solo la conferma esplicita. La caccia agli umani di un determinato luogo avviene ogni tre anni. Non sappiamo se questo evento si tiene ancora oggi. Possibile. Considerando però che negli ultimi due anni di storia di One Piece non si è mai verificato nulla del genere. O meglio non ci è mai stato raccontato. È probabile che prima della conclusione del manga potremmo assistere a qualcosa di questo tipo. Magari ci stiamo proprio avvicinando al terzo anniversario dall'ultima caccia. E quindi magari si ripeterà un'altra competizione. Potrebbe proprio essere questo l'anno della nuova competizione. E chissà quale isole il governo mondiale potrebbe scegliere. Alla fine del capitolo appare Ivankov. Anche lui era schiavo. E questo è un collegamento interessante. Soprattutto perché sappiamo che gli avvenimenti della God Valley di 38 anni fa sfoceranno nella battaglia tra Roger, Garp e i pirati Rocks. Questo che abbiamo visto è solo l'inizio di un flashback davvero interessante ed importante. Una storia che non sappiamo se ci verrà narrata con i prossimi capitoli o se verrà poi ripresa più avanti. Ma è una storia che abbiamo comunque bisogno di conoscere. La presenza di Garp potrebbe fare da ponte. Potrebbe far incontrare Ivankov, Orso e Dragon. E come sappiamo loro tre in un futuro saranno tutti membri dell'armata rivoluzionaria. Tre membri che potrebbero aver sempre creduto in Nika. Un aspetto su di loro che noi stiamo scoprendo invece solo adesso. E per giunta tre membri che sono tutti collegati a Rufy. Dragon ai tempi di God Valley era un ragazzo di circa 17 anni. Non sappiamo se è mai stato un Marine. Sarebbe interessante vedere nel flashback di God Valley Dragon come recluta Marine sotto Garp. Sarebbe una sorpresa perché non siamo a conoscenza di un'informazione di questo tipo. E la sua presenza in questo luogo potrebbe far conoscere a Dragon gli orrori del governo mondiale e dei draghi celesti. E da lì in poi questo personaggio potrebbe cominciare a muoversi contro il sistema. Insieme a due alleati trovati proprio a God Valley. Orso e Ivankov. Oltretutto appare anche la ragazzina di nome Ginny. Non sappiamo nulla su di lei né su quale sarà il suo ruolo in futuro. Come abbiamo detto nel video spoiler si potrebbe collegare a vari personaggi. Al momento però l'ipotesi più probabile è quella secondo cui questa ragazzina sia la mamma di Bonnie. Anche l'assonanza del nome no? Sono nomi simili. Bonnie, Ginny. E poi la vediamo essere presentata mentre mangia. E mangiare sempre e molto spesso è una delle caratteristiche peculiari di Bonnie. Ma voi cosa ne pensate? Questo è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, seguiteci su Instagram e al canale. Alla prossima. Alla prossima.